Siamo nella zona dove tra qualche mese sorgerà la nuova palestra dedicata alla trave, dove si potrà giocare sia alla pallavolo sia a basket. Questa mattina in comune è stato presentato il progetto che andrà a bando entro pochi mesi, dopo le tante discussioni tenute con i residenti della zona, alla fine è stata identificata la zona alle mie spalle dove appunto sorgerà la nuova struttura che sarà collegata alla vecchia palestra con un tunnel. Una palestra nuova di zecca, antisismica e a alta efficienza energetica. Questa mattina l'assessore allo sport Caterina Delbianco ha presentato il progetto esecutivo approvato dalla giunta che farà nascere il pala trave, la struttura contestata dal comitato Noi Podirino che però ormai è ai nastri di partenza, anche se verrà collocata più verso mare proprio per chiudere il meno possibile la visuale dei residenti. Entro l'anno verrà appaltato il lavoro e poi, meteo permettendo, in qualche mese la palestra sarà realtà. La struttura principale sarà composta da sette arcate portanti legno lamellare che sosterranno una copertura in PVC tecnico a doppia membrana di ultima generazione che garantisce sia isolamento termico sia passaggio della luce naturale. Nel suo punto più alto il paratrave raggiungerà i 10 metri contro un piano regolatore che permette costruzioni fino a 11, metri di altezza. Mentre l'area totale è di oltre 850 metri quadrati, 28 per 30,5 per la precisione e potrà contenere più di 200 persone tra pubblico e atleti. Questo è un nuovo impianto per la città di Fano, finalmente ritorniamo a investire anche su nuovi impianti. Questa è una città che ha veramente bisogno di palestre. Ricordo a tutti che la mattina le palestre vengono usate per fare ginnastica ed educazione fisica ai ragazzi delle scuole elementari vicine. In questo caso raccoglierebbe il bacino del poderino, del fenile e dei centinarola anche eventualmente. Quindi il pomeriggio poi vengono usate da tutte le nostre associazioni sportive che formano i nostri ragazzi e li tengono in palestra. È una palestra che sarà sicuramente adatta ad ospitare i campionati di pallavolo. Siamo sulla scia anche di un grande periodo di entusiasmo di pallavolo nella nostra città e accoglierà tanti settori giovanili della nostra città. L'investimento del comune è di circa 450.000 euro, un costo contenuto grazie ai precedenti investimenti della società sportiva Virtus, che aveva realizzato il basamento. In una prima fase verranno utilizzati gli spogliatoi della palestra Leonardo da tutti gli atleti. Poi verrà realizzato il nuovo blocco spogliatoi a servizio del palatrave.